Tra le novità introdotte da questo governo, oltre alla cosiddetta quota 100 e al reddito di cittadinanza, c'è anche la pensione di cittadinanza e noi chiediamo informazioni a Candida Sonzoni della segreteria della Cisle di Bergamo. Innanzitutto chi può accedere a questa misura? La misura legata alla pensione di cittadinanza è prevista per i nuclei familiari i cui componenti siano tutte persone che hanno compiuto 67 anni di età. Quindi il vincolo dell'età è fondamentale. Accanto a questo vincolo ci sono gli stessi vincoli che valgono per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Quindi essere cittadini italiani dell'Unione Europea, estracomunitari con un permesso di soggiorno ci è di lungo periodo, essere residenti in Italia da almeno 10 anni con un soggiorno continuativo di almeno due anni. Anche qui l'integrazione reddituale varia in relazione agli eventuali redditi già posseduti dal nucleo familiare, però mentre per il reddito di cittadinanza il vincolo reddituale che dà accesso per un unico componente al beneficio è di 6.000 euro, qui è di 7.560 euro, che è poi pari anche al beneficio annuale spettante a chi fosse nelle condizioni di avere il beneficio con un unico componente e avesse redditi pari a zero, redditi influenti ai fini della pensione di cittadinanza. In più nel caso in cui il nucleo familiare vivesse in locazione con un contratto registrato è prevista un'ulteriore integrazione mensile di 150 euro e questa è fissa indipendentemente dai componenti il nucleo familiare. Ecco nel caso di dubbi vale sempre il consiglio di rivolgersi direttamente ai patronati o ai CAF, assolutamente, perché lì si trovano tutte le informazioni, poi per i pensionati magari rivolgendosi a un patronato si possono avere delle indicazioni rispetto a eventuali benefici sulla pensione, quindi io dico sempre facciamo una strada in più ma siamo sicuri di avere tutto in regola, di percepire quello che ci spetta.